Buongiorno da Onda Tg, in primo piano subito la sanità, il medico non c'è, la radiologia dell'ospedale di Sulmona resta in affanno per la carenza di personale, la CGL va al prefetto, sentiamo tutto nel nostro servizio. Finisce sul tavolo del prefetto l'avvertenza di radiologia in continuo affanno per la carenza di personale, nessuna risposta è arrivata alle vertici aziendali, per questo la CGL che aveva già indetto lo stato di agitazione ha deciso di avviare anche le procedure di raffreddamento e conciliazione. Nel reparto di radiologia del presidio ospedaliero di Sulmona sono solo quattro i medici in servizio, due assegnati a Castel di Sangro, un numero complessivo ben inferiore a quello previsto in pianta organica, solo due medici sul totale sono attualmente abilitate turni notturni, situazione ovviamente non conciliabile con le normative contrattuali vigenti in ambito nazionale che da mesi sta implicando un dispendio aggiuntivo di risorse economiche e umane in ambito aziendale, venendo reclutati da febbraio scorso i radiologi dei presidi ospedalieri di Avezzano e L'Aqui, la copertura dei turni notturni eccedenti, le possibilità del personale medico sulmonese, un equilibrio così precario non poteva che sfociare in disservizi e improvvise discontinuità assistenziali per gli utenti, spiega Anthony Pasqualone della CGL. Non c'è il medico, si sono sentiti rispondere ai malcapitati pazienti, alcuni anche oncologici che attendevano da settimane o mesi di sottoporsi ad esami diagnostici necessari nel silenzio più totale dell'azienda. Nessuna risposta è arrivata al via alle procedure di raffreddamento e conciliazione. Avvocato, ex assessore comunale, una donna, una professionista stimata da tutti, è morta questa mattina all'età di 63 anni a Narita Di Loreto, già assessore comunale della giunta Casini tra il 2018 e il 2019. La Di Loreto si era occupata recentemente di scuole e sociale, in un periodo non facile per la città, distinguendosi sempre per il garbo istituzionale, per l'approccio pragmatico nel risolvere le varie problematiche. Non solo una brava amministratrice, ma anche una figura professionale apprezzata. L'ex assessore stava lottando da tempo contro un brutto male, negli ultimi mesi avrebbe avuto una recrudescenza della patologia. La salma esposta dalle 14.30 di oggi nella casa funeraria Caliendo Celestial. I familiari vanno le nostre condolianze. E ora l'inganno sul filo del telefono. Un'altra anziana raggirata dal finto nipote torna in azione a Sulmona purtroppo la banda del pacco. Allora sentiamo tutto nel nostro servizio. Passano gli anni, ma il copione è sempre lo stesso. Ciao nonna, stanno vedendo a casa tua per consegnarmi un pacco molto importante. Paga tu, poi ti rido i soldi. Servono mille euro. Il trucco è sempre lo stesso. Il finto nipote che al telefono simula di avere bisogno di un prestito. Tono di voce sua dente tra il supplichevole e il preoccupato. Ed ecco che l'impostore inizia a fare presa sulla vittima. La banda del pacco torna in azione a Sulmona. La truffa è stata consumata nei giorni scorsi ai danni di un'anziana di 89 anni. La donna ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si spacciava per sua nipote, chiedendole dei soldi per far fronte ad acquisti effettuati su internet. Poi si è presentato presso la sua abitazione un sedicente corriere al quale ha consegnato 300 euro e qualche monile in oro. Appena in possesso del denaro e dei preziosi, malvivente fuggito via. Insospettita da tale azione, la donna ha contattato i suoi familiari. Solo a questo punto non ha avuto più dubbi del raggiro. La classica truffa del pacco, l'ennesima per pretate danni degli anziani, è stata denunciata ai carabinieri della stazione di Sulmona che hanno raccolto la denuncia querela presentata dalla figlia della vittima. I militari stanno quindi procedendo con gli accertamenti del caso. Un altro tentativo sarebbe stato posto in essere in questi giorni. Fortunatamente, senza esito, il sentore è che la banda del pacco sia tornata in azione. Per cui la raccomandazione è quella di diffidare dalle telefonate di chi non si conosce e chiede soldi per telefono. L'utenza telefonica fissa va ragganciata immediatamente per contattare il numero di emergenza 112 dal telefono cellulare. Vista la massiccia campagna di informazione che vede in prima linea i carabinieri, il fenomeno si è allentato rispetto al passato, ma non è del tutto cessato. Il raggiro all'anziana sulmonese ne è una chiara dimostrazione. E ancora cronaca fuoristrada tra Sulmona e Prato La Peligna, giovanissimo trasportato in ospedale. Vediamo nel nostro servizio. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del 118 questa mattina poco prima delle 10 nella strada che collega Sulmona a Prato La Peligna. Protagonista dell'incidente stradale, un giovanissimo di 19 anni che si stava recando nell'istituto tecnico-industriale. Il giovane a bordo della sua mito è uscito fuoristrada per cause ancora da accertare ed è finito sulla fitta vegetazione a bordo della carreggiata. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, fatta eccezione di graffie e alcune escoriazioni. Sarebbe riuscito ad allertare i familiari mentre alcuni passanti si sono fermati per fornire collaborazione alle operazioni di soccorso. I vigili del fuoco hanno lavorato e hanno faticato non poco per tagliare arbusti e rovi in modo tale da consentire la difficile rimozione del veicolo. Il giovanissimo è stato trasportato in ospedale per le consulenze e gli accertamenti a titolo precauzionale. Per fortuna solo un grande spavento, ma niente di grave. E ora la cronaca giudiziaria. Minacciò l'imprenditore Piero Dinino, condannato un ex dipendente della Dinino Trasporti. Il Tribunale ha rigettato l'appello. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. 200 euro di multa, spese processuali a carico, risarcimento di oltre 3.000 euro alla persona offesa e questa è la pena combinata dal giudice del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, AGF, 58enne di Bugnara, già dipendente della Dinino Trasporti, per il reato di minaccia. L'uomo, ex dipendente dell'azienda, aveva impugnato davanti al Tribunale ordinario la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace di Sulmona. Il giudice monocratico ha ricettato quindi l'appello e ha confermato in toto il provvedimento oggetto dell'inchiesta. Secondo l'accusa, l'imputato, comunicando con un suo ex collega di lavoro, avrebbe minacciato a Piero Dinino un ingiusto danno, dicendoli «Hai visto cosa ho combinato e Dinino? E questo è solo l'inizio perché continuerò fino alla fine. Un'affermazione che, alla luce delle vicende pregresse, ha destato una grande preoccupazione per l'imprenditore Dinino, ex datore di lavoro del 58enne. Dinino ha temuto per la propria incolumità, per la propria attività aziendale, in considerazione delle precedenti accuse del suo ex sottoposto, rivelate si può infondate. Il riferimento è all'altro procedimento per calunnia, per il quale l'imputato è stato condannato nel 2018, alla pena di due anni di reclusione, quando accusò Dinino di averlo minacciato e vessato per il solo fatto di essere un rappresentante sindacale, di avergli dato in uso un vecchio e sporco camion e di essere stato spintonato fuori dall'azienda di famiglia assieme alla figlia Antonella. Tutte accuse destituite di ogni fondamento, come ha messo Nero su Bianco prima il Tribunale, confermate in appello, poi definitivamente in Cassazione. Oggi la sentenza di condanna per minaccia che conferma il provvedimento del giudice di pace. Piero Dinino è stato assistito in giudizio dalla figlia Antonella. Evase dal pronto soccorso, disposta una perizia per il giovane rapper di Cremona, una vicenda che tenne banco esattamente un mese fa. Sentiamo allora nel nostro servizio. Disposta una perizia psichiatrica per il rapper Evaso, lo ha deciso il giudice del Tribunale di Sulmona che ha accolto ieri l'istanza dell'avvocato difensore Alberto Paolini. M.A. le sue iniziali 22 anni di Cremona sarà processato con rito abbreviato. Il perito Mario Di Napoli entro i prossimi 50 giorni si occuperà dell'esame peritale volto ad accertare se il giovane era o meno capace di intendere e volere al momento del fatto, visti i suoi trascorsi. Il giovane era stato fermato la notte tra il 21 e il 22 agosto nell'area della villa comunale. Trovato in possesso di 40 grammi di asci, si ha opposto resistenza agli agenti operanti ed è stato tratto in arresto. La mattina seguente, in preda a un malore forse per una crisi di astinenza, ha ottenuto il ricorso alle cure mediche dell'ospedale, dove Evaso, dileguandosi per una finestra, rubando una bici, fino a raggiungere le campagne di Pettorano dove è stato recuperato nel pomeriggio a seguito di ricerche con 10 pattuglie e due elicotteri. La storia non è delle migliori. Il 22enne è stato allontanato dalla famiglia, raggiunto negli ultimi tempi anche da trattamenti sanitari obbligatori. Recentemente è iniziato il difficile percorso di ritorno sulla Buona Strada e un rapper su YouTube si fa chiamare Giovane Nobile e attualmente recluso nel carcere di Teramo. 4 milioni di euro per ammodernare gli impianti del Coggesa, questo l'annuncio dell'assessore regionale Campitelli, oggi in città per il candidato sindaco Vittorio Masci. La nostra intervista. È una politica che noi stiamo mettendo in piedi ormai da diverso tempo. In regione Abruzzo abbiamo una carenza di impianti, ma soprattutto anche degli impianti che ormai sono obsoleti, così come è quella anche di Sulmone e del Coggesa. Noi a dicembre 2019 abbiamo sottoscritto un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e l'anno successivo, a marzo 2020, abbiamo poi siglato una convenzione con il Coggesa che prevede un investimento pari a 3,8 milioni di euro per un revamping dell'impiantistica sul Coggesa. Che significa investire nel futuro, investire soprattutto a tutela dei cittadini perché è ovvio, io sono a conoscenza che ci sono anche dei problemi odorigeni e comunque prevalentemente è dovuto a un impianto obsoleto. Con questi investimenti sicuramente la tutela dei cittadini aumenterà in tal senso, ma noi come regione Abruzzo aumenteremo l'attività di controllo. Ho preso un impegno anche con i rappresentanti delle associazioni per aumentare proprio questo controllo nei confronti degli aspetti odorigeni e quindi convocherò a brevissimo sia il Presidente del Coggesa e anche Arta per valutare quelle che sono le deficienze in questo momento rispetto a questo problema. E questo pomeriggio alle ore 17 nel cortile di Palazzo San Francesco, sempre per il candidato Masci interverrà il Vice Presidente del Senato della Repubblica, il Senatore Ignazio Larussa, mentre domani per il PD sarà la volta del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, il Pentastellato Morra, che incontrerà non solo i candidati della Coalizione Liberamente Sulmona, ma i candidati sindaco. Ovviamente noi proseguiamo con il nostro giro di intervista in prima serata, questa sera alle 21.30, Onda TV, Canale 18 del Digitale Terrestre tocca al candidato sindaco di direzione Sulmona, Elisabetta Bianchi, quindi questa sera 21.30. Per quanto riguarda l'emergenza da Covid-19, ufficialmente non si registrano oggi nuovi positivi nell'area Peligno-Sangrina, la curva epidemiologica resta stabile, 180 le persone attualmente in sorveglianza, 83 gli attuali positivi, un nuovo caso invece in corso di accertamento, ma non è stato per il momento messo a referto, procede la vaccinazione nelle scuole, avremo modo di fare il punto della situazione nelle prossime ore, è davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda TV che come di consueto torna questa sera alle 20 circa. A tutti, buon pomeriggio. Grazie a tutti! Grazie a tutti.